secondo il dizionario treccani la distopia sarebbe previsione descrizione o rappresentazione di uno stato di cose futuro con cui contrariamente all'utopia e per lo più in aperta polemica con tendenze avvertite nel presente si prefigurano situazioni sviluppi assetti politico sociali e tecnologici altamente negativi equivale quindi a utopia negativa nella prefazione all'edizione oscar junior di fahrenheit 451 a proposito della fantascienza neil gaiman sostiene che ciò per cui funziona davvero bene la fantascienza non è il futuro ma il presente si prende un aspetto che ci turba o che è pericoloso e lo si estende estrapolandolo in qualcosa che permette alle persone di quel tempo di vedere da una diversa angolazione e da un posto diverso ciò che stanno facendo e questo il senso ultimo della distopia sempre nel gaiman nella stessa prefazione dice che la scrittura del futuro si fonda sulla risposta a tre domande e se se solo o se continua così e la distopia è proprio la risposta alla domanda se continua così ne parliamo con mauro gervasini storica firma di film tv che ha diretto dal 2013 al 2017 di cui ora è direttore editoriale ma anche di nocturno della benemerita rivista duel poi diventata duellanti autore di monografie sul cinema di arti marziali e sul cinema polar francese il libro si intitola se continua così cinema e fantascienza distopica ed è edito da mimesis nella collana storia e storie del mondo contemporaneo questo è decisione critica il podcast di pi greco m io sono rosario gallone buongiorno a mauro gervasini e grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questa puntata di decisione critica grazie a te a voi e buongiorno a tutte a tutti allora per quanto riguarda il libro se continua così visto che parliamo di distopia io curiosamente vorrei partire non dall'introduzione ma da una cosa che mi interessa in quanto questo è il podcast di una di una scuola di cinema e mi ha interessato proprio l'ultima pagina quella dei ringraziamenti in cui si fa riferimento al corso di storia e storie del mondo contemporaneo che tutti e niente dal quale sarebbe in parte partito l'idea del libro ma anche forse nutrito attraverso le discussioni con con gli allievi e questa questa valenza didattica pedagogica del discutere del cinema una cosa insomma che che torna come in quanto il cinema ci parla sempre è sempre una visione del mondo sì ti ringrazio per la domanda perché in effetti questo è uno dei motivi per cui esiste se continua così esiste questo libro e cioè il fatto l'idea era quella di creare un testo che potesse essere divulgativo e comunque un primo approccio a una determinata a un determinato filone della fantascienza quello distopico soprattutto per studenti molto giovani io insegno agli studenti del primo del secondo anno quindi sono diciamo 19 20 anni nei confronti dei quali si danno per scontate molte cose che scontate non sono faccio un esempio io quest'anno ho avuto 27 studenti frequentanti soltanto tre di questi 27 avevano già visto Blade Runner che per noi cinefidi di una certa età sembra la cosa appunto più scontata del mondo e invece evidentemente non lo è perché c'è tutta una generazione che non conosce alcuni di questi film perché non ha mai avuto l'opportunità di conoscerli faccio un passo indietro il corso si intitola è un corso di laurea triennale si intitola storia e storia del mondo contemporaneo io sono docente a contratto di questo corso che è organizzato dall'università dell'insubria che è un'università che copre diciamo due realtà territoriali quella di Como e quella di Varese quindi siamo diciamo nella zona insubrica quasi in Svizzera ed è una ha voluto essere esiste solo da tre anni ha voluto essere una facoltà diciamo così un po sperimentale in Italia sono molto poche le facoltà di storia sono la metà esatta di quelle che sono in Francia a livello di numero e invece la storia è secondo me io sono laureato in storia contemporanea quindi ovviamente sono un po' di parte però mi sembra davvero assurdo che sia così dimenticata o diciamo snobbata insomma anche dal mondo accademico e così è nata da parte di alcuni professori che sono stati un pochettino gli editori di questo libro in particolare Andrea Bellavita che è anche un critico cinematografico e Antonio Maria Orecchia e Katia Risconti che invece sono due storici è nata l'idea di questa di questa facoltà che mettesse insieme innanzitutto è una facoltà che prende in considerazione soltanto il novecento e l'inizio del nuovo millennio quindi solo storia contemporanea attraverso anche le nuove metodologie di divulgazione tra le quali la serialità televisiva e il cinema e quindi faceva gioco insomma la sintesi questo libro insieme ad altri che fanno parte di una collana che Mimesis poi ha permesso che esistesse Mimesis è l'editore ecco questo libro è un tassello di questo di questo tentativo di divulgare il cinema attraverso la storia e viceversa quindi il mio punto di partenza è comunque un punto di partenza io non sono uno storico però diciamo cerco di coniugare la storia contemporanea che è un mio grande interesse e appunto il cinema quindi questo è un pochettino lo spunto del libro certo anche perché come si ricava dal libro quella che è distopia a un certo punto poi diventa storia mi riferisco in particolare a 1984 dove come ricordi tu nel libro insomma i dettami del regime dell'oceania sono tre dove la guerra e pace la libertà e schiavitù l'ignoranza insomma ci siamo arrivati assolutamente la 1984 è stata la prima scintilla della del libro c'è il momento in cui ho pensato di scrivere un libro sulla distopia discorso diciamo così di legarlo al corso universitario e all'università è arrivato dopo io ho letto per la prima volta non avevo mai letto colpevolmente 1984 durante il primo confinamento sanitario cioè nella primavera del 2020 e mi sembrava il testo fosse per esorcizzare quel momento più adatto è un grande libro io non ripeto non l'avevo mai letto conoscevo le due versioni cinematografiche che ne sono state tratte e da lì è venuta l'idea di insomma di ragionare un libro scritto nel 1949 in cui il controllo domestico cioè nelle case degli abitanti di questa Gran Bretagna ormai trasfigurata in un regime così micidiale il controllo domestico è fatto da televisori senzienti che vuol dire che tu puoi vedere il programma ma il programma vede te e ti spia ora nel 1949 quando è stato scritto il libro il televisore in Italia ancora non c'era tanto per dire quanto era avanti questo libro rispetto alla realtà storica nel quale nella quale nel quale è nato e quindi sì poi quel testo ha influenzato praticamente tutta la fantascienza distopica successiva io penso e non solo la fantascienza distopica però diciamo che dal punto di vista del genere è un pochettino il punto di partenza se devo trovare un corrispottivo cinematografico direi Metropolis quindi Metropolis di Fritz Lang da una parte e 1984 di George Orwell dall'altra sono il punto di partenza di questo mio lavoro veniamo all'introduzione di Gianni Canova dove in qualche modo smitizza il concetto di distopia quello da diciamo da vocabolario come se la distopia fosse l'anti utopia insomma Canova dice normalmente viene considerata mentre l'utopia è la visione di un mondo migliore la distopia sempre riferita al futuro è la visione di un di un mondo peggiore quantomeno la degenerazione di un mondo già conosciuto però la cosa interessante alla quale fa riferimento è che spesso la distopia nasce da un'utopia da un'intenzione utopica fa riferimento anche al racconto dell'ancella cioè le intenzioni di chi in qualche modo instaura i regimi che poi animano gli universi distopici sono sempre almeno per loro buone intenzioni che poi degenerano sì è un'eccellente intuizione ovviamente Gianni ci regala come al solito le sue intuizioni della quale io in qualche modo avevo implicitamente parlato anche in alcune parti del libro sintetizzandola così in realtà alcuni dei regimi distopici che sono diventati narrazione che sono diventati romanzo o film sono dei regimi che sembrano avere a cuore il benessere del cittadino e faccio un esempio su tutti che tra l'altro è uno dei film per me più belli in assoluto tra tutti quelli che ho trattato cioè rollerball di Norman Jewison in rollerball stanno tutti bene stanno tutti bene cioè è un regime naturalmente che limita le libertà però ti dice io limito la tua libertà ma in cambio ti regalo un benessere infinito quindi tu mi regali la tua libertà io ti controllo controllo diciamo così la società il controllo sociale però in cambio ti faccio stare bene e questo è il ricatto più subdolo però attenzione la realtà storica ci ha in qualche modo dimostrato che anche le democrazie compiute possono scivolare in questo tipo di equazione non chiamiamolo ricatto nel caso delle democrazie compiute però in questo tipo di equazione in certi indeterminati momenti faccio un esempio chiaro a tutti dopo l'attentato dei lettori gemelle è stata promulgata una legge negli Stati Uniti che si chiama Patriot Act sotto la presidenza Bush ma poi è stata ratificata anche con Obama che diceva esattamente questo in sintesi naturalmente la legge è complessa e devo dire che ha anche degli aspetti molto positivi perché per esempio ha introdotto una maggiore un controllo maggiore sul riciclo di denaro quindi da questo punto di vista ha avuto anche un effetto benefico ma alla base alla base di quella legge c'era un concetto che era esattamente questo in cambio della sicurezza voi mi regalate un pochettino della vostra libertà anche della vostra libertà costituzionale per esempio con il Patriot Act i cittadini potevano essere arrestati e trattenuti mi sembra per 48 ore comunque per un intervallo di tempo piuttosto esteso senza che gli venisse comunicato il motivo del loro arresto che cosa che sarebbe anticostituzionale però in quel caso era permesso da una legge dello Stato che è stata ratificata anche da un presidente democratico ripeto era una legge complessa con dentro un sacco di cose ma il principio filosofico che stava alla base era questo quindi è facile scivolare in quel tipo di quel tipo di rischi quello che dice Gianni è giustissimo lui poi è un grande appassionato un grande conoscitore di fare nel 451 libro e film che sono un altro dei testi fondamentali della distopia della fantascienza distopica che proprio questo in parte ci dice insomma e a proposito della della legge mi sovviene una suggestione alcuni un paio di testi cinematografici cui fai riferimento la notte del giudizio e captive state di rupert wyatt nominano i diciamo i padroni o i nuovi i dittatori nuovi padri fondatori nella notte del giudizio e addirittura legislatori in captive state cioè gli alieni questi esseri venuti da un altro pianeta vengono definiti legislatori in particolare captive state mi sembra un testo anche abbastanza inquietante per lo stato delle cose americano perché è come se dicesse che c'è un terrorismo buono in un periodo storico in cui la caccia al terrorista era ed è praticamente alla base di ogni governo era un testo molto particolare sì occhio che ci sono racconti di fantascienza distopica dove i cosiddetti ribelli al regime vengono apertamente definiti terroristi mi viene inventato di forza di polveroven tanto per peraltro è tratto da un racconto di di philip dick e sicuramente però i due film che tu citi che sono il primo film la notte del giudizio sarebbe diciamo l'inizio della saga di purge no di lo sfogo di james de monaco sono due film assoluta ai quali voglio molto bene anche per la collocazione all'interno del filone sono dei cosiddetti di nuvi cioè sono dei film a un budget relativamente basso che sono stati fatti per coprire diciamo così un segmento di cinema popolare quindi non sono il grande film di fantascienza alla star wars o alla marvel per parlare di di altri franchise e in questo caso però piuttosto profetici rispetto ad una certa situazione politico sociale americana anche qua faccio un esempio io ho presentato la prima volta che ho presentato questo libro è stato il 14 gennaio insieme ad alberto barbera e il giorno stesso il correre della sera è uscito con una notizia in taglio basso ma insomma con una fotografia abbastanza eloquente che parlava del processo ai proud boys i proud boys sono questa formazione fascista neofascista americana statunitense che durante la presidenza di donald trump si rese protagonista di alcuni pestaggi e alcune azioni che appunto sono state poi denunciate e durante una conferenza stampa resa celebre poi dai social a donald trump venne chiesto se lui in qualche modo appoggiasse questi proud boys e lui invece di prendere naturalmente le distanze in maniera netta disse che chiedeva ai proud boys di rimanere un passo indietro usò queste parole stand back but stand by quindi stati indietro ma state pronti e il corriere della sera metteva una fotografia di un rally cioè di una manifestazione di questi proud boys di questi fascisti che avevano una maglietta con su scritto stand back but stand by cioè le parole del presidente trump e su le maschere che sono le maschere poi rese celebri no poi prima rese celebri dalla notte del giudizio cioè i personaggi che di notte durante la notte dello sfogo vanno in giro e possono ammazzarsi si mettono queste maschere un po carnevalesche e abbastanza inquietanti quindi c'è un rincorrersi incredibile tra il cinema distopico e la realtà non si sa c'è chiaramente la realtà fa più paura in questo caso però la coincidenza mi lasciò mi aveva lasciato veramente meravente stupefato la notte del giudizio un film del 2012 in cui si immaginano delle cose che poi con la presidenza trump sono accadute quattro anni dopo quindi voglio dire effettivamente c'è un aspetto profetico per quanto riguarda captive state ottimo film lì però c'è una caratteristica che lo rende se vogliamo un po meno inquietante rispetto secondo me almeno secondo rispetto alla saga della notte del giudizio e cioè che diciamo i cattivi sono alieni quindi in quel caso c'è un'invasione il problema è che una parte del potere politico si mette subito d'accordo con gli invasori e allora lì subentra diciamo così un discorso politico diverso però sono due ottimi film in fondo anche poi la notte del giudizio questa idea dello sfogo anche quella viene da 1984 i due minuti d'odio la settimana che poi diciamo scusa nella settimana dell'odio questa sorta di anche se in 1984 il bersaglio dell'odio comunque è indirizzato insomma sì è indirizzato c'è questo quest'uomo che una volta era diciamo così uno dei fondatori del socialismo inglese e invece poi è diventato il primo nemico intorno al quale si coagula tutto l'odio organizzato da parte del regime la settimana dell'odio è questa sorta di festa nazionale in cui appunto si dà libero sfogo all'odio e in realtà questo personaggio secondo gli storici e secondo gli esperti di george orwell era trotsky cioè perché george orwell quella di george orwell è una metafora dello stalinismo lui era diventato un feroce un fervente anticomunista antistalinista dopo la guerra in dopo la guerra civile spagnola alla quale partecipò e e quindi insomma è stato un po identificato come il grande fratello che poi attenzione perché è questa qui è una cosa che non dice mai nessuno ma la traduzione italiana è impropria nel senso che big brother significa fratello maggiore esattamente quindi ha una sfumatura leggermente diversa poi noi siamo ormai ce l'abbiamo nell'orecchio nel grande fratello c'è anche la trasmissione televisiva e tutto quanto però fratello maggiore innesca un paternalismo maggiore e noi sappiamo che il paternalismo è una delle delle chiavi è uno dei segreti della del successo di certi del successo del consenso di cui hanno goduto certi regimi novecenteschi sia comunisti che fascisti ricordiamo poi che a proposito di cancel culture trotsky è stato uno dei primi quando non esisteva photoshop a dover essere cancellato dalle dalle foto in cui era ritratto a fianco a stalin insomma cioè stalin lo fece eliminare dalle fotografie dalle fotografie e dai cinegiornali 10 giornali stalin fu tra tra i primi a capire un po che poi dopo si ritrova anche nella divulgazione dell'immagine nel grande fratello fu il primo a capire l'importanza del cinematografo per termini propagandistici ma era chiaro lui doveva governare su un territorio talmente vasto la sua immagine doveva essere dappertutto quale migliore arma del cinematografo per potersi per proiettare in tutti i territori faccio sempre però ricordare che sono tutti venuti a lezione da noi è perché i primi sono stati i fascisti nostri a utilizzare il cinema il cinematografo l'arma più forte persino leni rifiastal nel suo diario venne a cinecittà a imparare a imparare tra virgolette a vedere come erano state fatte le prime prime esperimenti di cinema propagandistico da parte del regime fascista fu nella famosa pagina in cui incontrò benito mussolini lo descrisse come un caruso in uniforme quindi però è comunque dovuta venire in italia pure lei e a proposito dell'italia c'è un diciamo una letteratura distopica che si sta sviluppando un po' meno nel cinema comunque possiamo far riferimento a la terra dei figli che di cupellini che che è tratto da graphic novel di di gipi oppure mondo cane se guardiamo al passato secondo te un film come la decima vittima di eliopetri o omicron di ugo gregoretti potrebbero rientrare nel nella categoria della distopia allora sono sincero credo di non aver mai visto omicron di gregoretti quindi su quello mi astengo perché non se l'ho visto non lo ricordo quindi gli altri assolutamente sì io il libro l'ho chiuso prima di vedere la terra dei figli di cupellini quindi il film viene citato ma non non ne parlo con con dovizia ma gli altri che citi tu mi sembrano degli esperimenti assolutamente interessanti benché sui generi mondo cane è un film che tenta la la strada del genere puro quindi da quel punto di vista è incomiabile il problema della fantascienza è sempre poi lo stesso no che purtroppo la fantascienza per essere credibile e per essere realistica ha bisogno di un investimento in tecnologia in effetti speciali che non sempre il cinema italiano può permettersi e quindi abbiamo sempre il rischio si è presa qua adesso gli italiani hanno preso una strada un pochino più se vogliamo autoriale per cui sopperiscono la mancanza di soldi per degli effetti speciali che possono rivaleggiare con quelli di hollywood con quelli americani attraverso altri spedienti penso per esempio un piccolo film di carlo lavagna che si chiama shadow che interpretato dalla bravissima figlia di kate winslet non mi ricordo più il nome ma cercatelo perché comunque il film è un gioiellino quello è un film distopico fatto praticamente senza bisogno di alcun effetto speciale però si capisce che è un film distopico che c'è in atto un qualche cosa che riguarda un futuro non auspicabile quale dovrebbe essere la definizione perfetta di distopia quindi qualche tentativo c'è certo nella letteratura è più facile ma è anche vero che noi facciamo un po fatica ad abituarci alla letteratura di genere in italia e quindi è il motivo per cui ho voluto dedicare l'appendice a valerio evangelisti perché lui è stato quello che ci ha creduto di più è che ha scritto le cose più belle secondo me c'è una caratteristica comune pensando appunto alla decima vittima a fare night 451 dal punto di vista dell'immaginario distopico che quello del retrofuturismo cioè proprio il il tentativo di legare a un a un presente o a un futuro però molto prossimo penso anche a 1997 fa sì che si ricorra diciamo a un design non inventato ma presente soprattutto nelle scenografie sì bel tema questo in realtà c'è un regista che ha sviluppato questa cosa secondo me in maniera incomiabile che è Andrew Niccol soprattutto in Gattaca cioè se dobbiamo fare un esempio di retrofuturismo perfetto è Gattaca dove il film è ambientato in un lontano futuro dove si fanno degli esperimenti genetici che per per ora ancora non possiamo immaginarci come come reali come possibili e si va nello spazio sulle su Saturno ma vanno in giro con la Citroen DS con delle automobili che appartengono a diciamo così ad un ad un immaginario automobilistico e di design del 1950 ecco per non parlare poi del dei costumi dei vestiti che sembrano non casualmente riferirsi al cinema di Hitchcock perché comunque alcuni personaggi soprattutto il personaggio di Uma Thurman ricordano un pochettino i personaggi femminili quindi il retrofuturismo è questo gioco di ambientazione nel futuro con elementi che nel passato venivano considerati avveniristici o futuristi quindi per esempio penso alle linee delle automobili francesi che peraltro sono state inventate da un italiano che si chiama Flaminio Bertoni e ma che comunque erano considerate all'epoca all'avanguardia assolutamente avveniristiche ma è lo stesso concetto del un altro filone della fantascienza molto interessante che ha avuto un grande sviluppo soprattutto nel campo dei fumetti che è il cosiddetto steampunk cioè questo questa visione futurista però ambientata in un mondo che è quello degli inizi del novecento cioè quando c'è stata l'esplosione del positivismo della tecnologia del sapere scientifico delle esposizioni universali e del vapore perché poi steam vuol dire quello no quindi ci sono effettivamente queste queste commistioni molto molto interessanti ambientazione futurista ma elementi scenici e iconografici che appartengono al passato gran parte delle distopie distopie più interessanti sono come le classifiche distopie politiche però non non faremmo un buon servizio se non parlassimo della tecnodistopia ecco questo mi interessa molto perché la tecnodistopia in realtà è trasversale a tutti i filoni io ho cercato nel libro di suddividere tra distopia politica distopia diciamo epidemiologica distopia ecologica che mi è la più la più allarmante e attuale attuale da trent'anni ma noi facciamo finta di esserci ne accorti solo adesso e ma la tecnodistopia è effettivamente un come dire un trade union che le lega tutte o comunque tante e sarebbe poi come dire l'elaborazione della tecnofobia cioè della paura della tecnologia molto detto molto in soldoni la paura che l'intelligenza artificiale possa prendere il sopravvento sugli esseri umani ci sono dei film celeberrimi come terminator o matrix dove appunto sono delle intelligenze artificiali quelle che hanno creato il regime distopico contro il quale occorre resistere con tutte le forze possibili quindi effettivamente mi sembra un tema assolutamente interessante anche per coloro che hanno cercato in qualche modo di trovare invece delle chiavi di volta narrative per poter convivere con la tecnologia e quindi per poter in qualche modo gestire in maniera razionale questa tecnofobia io mi riferisco in particolare ad un grande scrittore che non a caso era anche uno scienziato a isa casimov che è l'autore delle leggi della robotica che con le quali quindi si può immaginare un'interazione con gli automi con quali che Ridley Scott ha poi chiamato replicanti ma c'è un film di quale io parlo molto anche se non viene detto all'interno del film che siamo nel futuro potrebbe essere anche una sorta di ucronia o comunque un presente iper tecnologico che è ex distopia più compiuta per me è un film totalmente sottovalutato Garland è molto bravo a me piacciono anche gli altri suoi film che ha fatto ricordo che anche lo sceneggiatore di 28 giorni dopo che invece è una un film sulla 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 epidemia virale estremamente puntuale pertinente con grandi aperture sul fantastico ma ex macchina è davvero un grande film secondo me e non posso non approfittare della tua presenza per deviare un po dalla distopia avendo tu pubblicato ormai vent'anni fa un libro sul cinema poliziesco francese cioè sul polar e sei rimasto credo il massimo esperto italiano del del genere e quindi non potevo non approfittare della tua presenza per chiederti qualcosa sull'ultima notte di amore è una rondine non fa primavera c'è da c'è da sperare allora io ho citato dunque facciamo un passo indietro e quando ho fatto la recensione per fin tv di ultima notte di amore ho citato marshall nella recensione che è un regista di film francesi ex poliziotto soprattutto perché mi piaceva questa ricorrenza ricorrenza di storie di poliziotti che non avessero altri fini se non essere quelle di storie di poliziotti cioè puro genere voglio essere ancora più caro più più chiaro il poliziesco in questo caso non è utilizzato come mezzo di trasporto per dire qualcos'altro chi usa una metafora cara chabro il chabro ha fatto moltissimi film che potrebbero essere considerati gialli ma il giallo era un pretesto voleva dire voleva in qualche modo fare un altro tipo di cinema o comunque affrontare un altro tipo di di percorso dignitosissimo alcuni di questi film sono meravigliosi quindi non ne sto facendo assolutamente una questione di giudizio di merito in questo secondo me ultima notte di amore è molto più vicino a un certo tipo di cinema francese che non ha la tradizione del poliziottesco all'italiana dalla quale a parte forse qualche eco nella corona sonora non mi pare che sia a me è venuto in mente nuit blanche ma quello a caspita è vero non ce l'ho pensato lì insomma unità di luogo ma quello nella discoteca esatto tra l'altro sì sì certo ma quello lì è un grande film tra l'altro il direttore della fotografia adesso non mi ricordo più il nome ma tom greenford si chiama è il direttore della fotografia di clint eastwood c'è incredibile quindi preso da un regista francese no quello è un ottimo film assolutamente con taylor sisley veramente un ottimo film sì non ci avevo pensato ma è un paragone assolutamente assolutamente calzante io temo che non ci si possa illudere sul fatto che rinasca un genere cinematografico in italia poliziesco intendo perché non mi pare che ci siano le condizioni ultima notte di amore sta avendo un riscontro molto interessante in sala ma siamo lontani però dal film che può in qualche modo con il suo trionfo riaprire i giochi su una determinata tipologia di cinema perché mi sembra che manchino poi gli spettatori che manchi poi pubblico teniamoci lo stretto abbiamo anche stefano solli ma che fa degli ottimi film d'azione e polizieschi che italiano adesso ha lavorato un po in america ma credo che il prossimo film lo faccia qua quindi insomma qualcosa si muove ma non possiamo pensare sempre il dubbio che il riscontro di pubblico sia per favino più che per il genere insomma ma sì qui c'è stato un buon passaparola secondo me nel senso che credo che abbia funzionato molto favino non è nuovo a fare personaggi di poliziotti anche con sfumature importanti perché falco il poliziotto di akab che è tra l'altro della mobile della celere scusa è molto diverso da amore quindi però sì lui ha un fandom soprattutto un pubblico femminile molto affezionato e quindi sicuramente ha funzionato però non è solo quello cioè la gente lo va a vedere il film gli piace e quindi c'è un passaparola benefico invece il poliziesco francese per fortuna va avanti ad avere cose sempre interessanti e quindi il polar vero quindi da quel certo siamo tranquilli purtroppo diciamo non arriva molto qui a meno che non ci sia jean du jardin e forse neanche all'ora insomma bisogna un po cercarlo sulle piattaforme qualcosa arriva insomma io cerco sempre di segnalarlo ecco purtroppo in sala no non arriva quasi nulla adesso il 13 aprile uscirà che non è esattamente un polar ma diciamo ne sfrutta i meccanismi cinematografici uscirà questo bellissimo film io l'ho già visto per me è uno dei film dell'anno che si intitola novembre novembre che cedric kimenez esattamente e quello lo consiglio fin da subito perché dal punto di vista cinematografico a me ha lasciato senza fiato e vi potete immaginare insomma non sono un novellino quindi insomma ci ce ne vuole un po per comunque scuotermi e questo l'ho trovato davvero perfetto nella costruzione kimenez del resto è l'autore del miglior polar degli ultimi anni che è backnord che questo si può vedere su netflix non l'abbiate visto allora io ti ringrazio soprattutto per questo double bill insomma abbiamo fatto questo doppio spettacolo fantascienza distopica polar grazie mille per essere intervenuto e spero di rincontrarti a più presto grazie a voi grazie a te ciao a presto